eeeh ciao ragazzi ben ritornati in questo nuovissimo video di Zula ormai Zula raga mi sto appassionando veramente troppo ho registrato tipo ieri l'ultimo video che avete visto e siamo qua a registrare un nuovo video di Zula siamo in una partita un po' a caso intanto mettiamo pronto così parte questa qua sarebbe la combattimento mortale senza squadre tutti contro tutti dovrebbe essere si soltanto con gli assalti quindi soltanto con gli auji l'altro mi hanno regalato anche un cecchino se non sbaglio un giorno dopo lo andiamo a provare su un altro magari un deathmatch allora solo assalto qui tutti contro tutti sarà un casino ve lo dico sarà veramente un casino c'è gente che ti spona a fianco praticamente cacchio ammazzato veramente un casino raga ve lo dico veramente un casino aiuto c'è uno già a 18 kg quindi la vedo difficile arrivare in primo perchè comunque sono a 50 ragazzuoli ok e mi ha ammazzato vabbè sarà così ragazzi ammazzi uno e poi ti ammazzano cioè sappiatelo scappa forti via scappa no da dietro madonna scappa è morto c'è uno qua madonna madonna aiuto 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 no qua a me se non mi piace per niente la situazione ok ho ucciso quello che faceva più kill praticamente aiuto pochissima vita raga ho 40 di vita 40 di vita carica carica Tony carica ti prego non farmi uno alle spalle che vado mi incazzo eh vengono vengono da tutte le parti raga è un po' un casino però ce la possiamo fare ce la possiamo fare a vincere no però almeno a fare un punteggio buono headshot via 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 cosa succede raga no 42 di vita cioè vabbè mi ammazzavo quello da dietro oh siamo già a 12 kill raga siamo già a 12 kill aiuto e vabbè si 13 kill vabbè ma se proviamo a cambiare armi mi piglio il mitra che ne pensate potrei fare qualcosa con il mitra secondo me si aiuto vedete che col mitra siamo più rapidi vedete scappo ora perchè c'ho pochissima vita cioè mi sputano in faccia e sono morto questo lo so purtroppo lo so hai visto l'ho detto io oh no mi ha ammazzato mi ha rubato la kill quello mi ha rubato la kill headshot con la mitra e lui era appena spawnato no no è 44 l'hanno appena ammazzato meno male non fate vincere lui raga dai ma quanta vita c'ha quello la con aiuto king vabbè 47 kill raga ha vinto praticamente ha vinto questo io seguo una persona e poi mi ammazza un'altra io ce lo so tutti contro tutti è sempre una guerra totale raga ho fatto 17 kill non so poche però ho fatto più morti che kill quindi a me non piace devo fare di più devo fare di più ok raga sembra aver trovato una partita andiamo devo trovare mappe belle raga perchè io voglio portarvi sempre queste mappe un po' variare sul canale quindi perchè c'ho il cecchino io non lo so però non voglio camperarmela qua col cecchino però non chi la voglio fa bella vabbè si ho fatto la mia kill col cecchino questo volevo intanto la possiamo anche ammazzare e distruggerle vai raga aggressivi andiamo ad ammazzare tutti da dietro una volta che vado io arriva uno da dietro una volta che vado io battu 2 1 2 hai fatto veramente ho fatto veramente il cazzo vieni qua vieni qua forse andiamo 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 guarda a sinistra perfetto perfetto scappo ok l'ho ammazzato vendetta bella dove stai ma guardalo da dietro sempre batto di merda arriva da dietro una cosa incredibile tutta una canata così da dietro a caso piglio qualcuno qualcuno l'ho pigliato raga scappo aiuto scappo ho 8 di vita raga 8 di vita 8 di vita eh ma ho acciso perché ho 8 di vita quindi ci sta pure non voglio essere ultimo in classifica vi prego aspettate a fare le kill ho ucciso quello ok 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 aiuto eh ho ammazzato ho fatto un paio di kill e headshot quindi ci sta c'è uno qua c'è uno qua c'è uno qua c'è uno qua fame aiuto c'ho dietro scappo scappo c'ho 11 di vita raga 11 di vita non so se vedete conto quanti sono 11 di vita carica un attimo qua dietro no dai una granata a caso così mi pigliano va bene e poi morivi ah c'è il cecchino là buono a sapersi sta arrivando cecchinatore sto arrivando cecchinatore una bella granata la butto è morto quello col cecchino è morto bravi 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 aiuto aiuto tutti insieme va bene tanto abbiamo già vinto io ho fatto un cazzo questa partita però la distartiamo state tranquilli ero un attimo immortale lì in mezzo sbaglio ho fatto 10 kg e 11 morti oggi veramente ho fatto non schifo di più abbiamo vinto 10 kg e 11 morti ho fatto veramente schifo però e raga sono iniziato sono entrato in metà partita quindi ci stava dai siamo io cataslim siamo super cariche può vincere no vabbè stavo facendo zula si può venire mi fai un bannino allora bro solo sta partita dobbiamo fare quindi dobbiamo vincerla tanto mi hanno negato il cecchino oggi non so perché sicuramente quello là l'l1 bro muoviti bro che stai iniziando ma non è bro ma non ma non però bro col cecchino che sto a fare io qua da vicino poi eh infatti sono morto no no mettila oggi che cacchio di cecchino qua siamo tre contro quattro bro aiuto stanno in base bro aiuto tutti vatti in base bro mi ha buttato una canata arriva arriva bella perfetto però non c'era no da dietro dai colombo di bro C'è uno col cecchino Ammazzato No, lo sentivo i passi Lo sentivo i passi qua Stavo uno dietro i contenuti qua fuori Ti ha camperato là Ti puoi mettere a camperà qua dietro? Ma ti ho visto, dai Dai Ti puoi mettere a camperà qua Oh, c'è uno che è sceso qua Ciao amico Ma con questi cecchini da vicino Ma che volete fa' Eh, è di shot da qua Ma non giocate con i cecchini qua Dai Ma giocate seri No, vabbè Se qua stanno tutti i campiati in base No, che l'ha ammazzato Ma si Io mo si Do stai Perché apri il pompo Ma no, bro Ho bisogno di una mano qua sopra Oh, cacchio Cecchini Attento, bro, una qua di qua a sinistra, bro Non so, sono due a sinistra Prego il pompo Sta uno al lato, sta uno al lato Bella Ma non, bro, in base Come in base? Che cecchino È in base, bro Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Ma mori Ma moritece Un altro qua No, ma come fa a cecchinare questo con No, sono caduto Bro, ma no, che sto facendo Comunque ho fatto nove chili consecutive l'altro giorno Devo superare questo limite No, sei ne ho fatti La oggi, bro, l'ultimo giorno Devo sfruttare al massimo Sto bene, sto bene, sto bene Sto qua, sto qua, sto qua, sto qua, raga Ah C'è uno qua, stavo Ma è questo Ah, tless Bro, bro, 35-33 Devo vincere Ma chi è? Siamo a 35-33, bro No, 35-35 Siamo tutti quanti qua Tutti quanti là, vedi? Ma no, ma no, ma no Muori? Bella bomba, rollo È morto quello del cecchino, bro Oh, sono qua Chi cazzo la No Ma vaffanculo cecchino di merda Vaffanculo Per favore Ma Mi sento passico in base, no? 47-40 Bro, siamo Siamo in due persone di meno, noi Quindi Occhio Oh, dietro, dietro Oh Headshot Troppo bello Se headshot, raga Ma no, non c'è lui C'è lui C'è lui C'è lui C'è lui C'è lui Madonna Tagliategli la cuore Vabbè, c'è c'è Bro, bro, ma che cazzo sto facendo io 32 kg Io sto parlando Ma non sto capendo E' fincata Tengo 11 kg Guardali, guardali Col cecchino di merda Madò Ma come faccio Chi sta spara con i cecchini Allora, questo qua sotto Ha rotto le pali E butto una granata È uno L'altro là sopra Chi è che spara dietro? Asi tu Noi dobbiamo recuperare La base di sopra Perché là Stavamo fare le kill noi Sono sopra io, eh Sono sopra nel Ho ucciso uno Ok, no Cecchino, dai Dai, basta con i cecchini Ma come fai? Ora capisco perché Wid e Claudio Scleravano quando facevano le kill Con il cecchino di continuo Sinistra Ciao cecchino Mori, c'è Ma uno l'ha ammazzato L'altro mi ha ucciso 36 kill Se riesco a sopra il mio record Di 41 kill Sclero oggi Vai, 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 vai Con il cecchino stai facendo le kill Una cosa, bro Oh, sono qua Oh, sono un primo in tutta la partita io Cioè devo fa Siamo pure a 30 Oh, il cecchino là L'ho piato una volta L'ho piato una volta Siamo avanti a sinistra Tutti ci No, non caricare ora Mi hanno ucciso Stacca, 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 stacca Ma che cazzo avevo fatto Tutti quanti con il cecchino Stavano là Vinto 38 kill Bella Bella, bella, bella Questa, non ci stava intanto Tra un sacco di l'oro E vabbè ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto E vi ho fatto una piccola partita al volo Tra l'altro vi troverete Sia la clip questa qua Che quella che ho fatto io prima Quindi saranno due partite E vinto Spero che vi sia piaciuto In un po' Se volete un altro video In compagnia di qualcun altro Magari sempre Vincenzo Oppure mi chiamiamo Maze Qualcun altro Fatemi sapere nei commenti Noi ci vediamo al prossimo video Qui da Tony e Vincenzo È tutto Ciao raga Bella